Sono Manuel Frassinetti, titolare della tabaccheria in via del Perugino numero 2 a Modena e ho il piacere di presentarvi l'artista modenese Barbara Ballestrazzi. Ci propone una serie di opere ad acquarello e a pittura. Il tema trattato è la città di Modena, i suoi scorci e le sue particolarità, in più qualche opera che riguarda i nostri castelli modenesi e scorci di paesaggi africani e paesaggi marini con qualche riproduzione di opere famose.